Oggi 28 giugno la Chiesa Cattolica festeggia Santa Vincenza Gerosa. Vicino a Bergamo, sul lago Odiseo, all'Overe, nel 1784, in una famiglia di ricchi conciatori di pelli, nasce Caterina Gerosa. La bambina, dopo la scuola elementare, viene chiamata a collaborare nell'azienda di famiglia. Ma prima di recarsi in negozio e alla fine della giornata, va in chiesa a pregare. Come è strano il comportamento di questa ragazzina. Possiede denaro, terreni e case. Eppure, timida e riservata, vive miseramente. Si veste con indumenti semplici e rattoppati, mangia pochissimo, spesso solo polenta e noci, coltiva l'orto. Perché? Per risparmiare e regalare cibo agli affamati, che a quei tempi erano tantissimi, a causa di guerre, carestie, epidemie. Caterina rimane orfana e con l'eredità ricevuta, aumenta la paga degli operai e aiuta ancora di più i bisognosi. Invita a casa sua i poveri, soprattutto le mamme, che non riescono a sfamare i loro bambini. Cucina per loro e offre gratuitamente lauti pranzi. Sovente si reca nelle case dove manca tutto per portare pace e pane. Caterina è molto amata e tutti la chiamano zia. Riceve una proposta di matrimonio che rifiuta perché ha deciso di dedicarsi completamente al Signore e ai poveri. Comincia poi ad occuparsi dell'oratorio dove incontra una maestrina molto più giovane di lei, Bartolomea Capitanio. Anche lei dichiarata santa. La ragazza ha grandi progetti e convince la timida Caterina a realizzarli con le sue possibilità economiche. Caterina acconsente anche se essendo molto umile non si sente all'altezza del compito. Incoraggiata dal parroco del paese Don Angelo Bosio, Caterina acquista un palazzo che adibisce ad ospedale. Purtroppo dopo pochi anni Bartolomea muore lasciando Caterina da sola. La donna non sa cosa fare si ritiene come sempre una buona a nulla. Vorrebbe rinunciare ma ancora una volta le parole di Don Bosio la incitano a continuare. Caterina prende i voti e diventa Suor Vincenza dal latino significa vittoriosa. Fonda la congregazione delle Suore di Carità dette di Maria Bambina. Davita ad Orfanotrofi e ospizi per malati e offre istruzione gratuita alle fanciulle. La congregazione attira tante vocazioni. Le Suore diventano centinaia e vengono chiamate in Lombardia, Trentino e Veneto per prestare il loro aiuto in situazioni gravi di indigenza e di epidemie. Vincenza Gerosa muore nel 1847 all'overe dove è sepolta presso il santuario delle Suore di Maria Bambina oggi presenti in tutto il mondo. Abbiamo trasmesso Ecco chi è Santa Vincenza Gerosa breve a geografia tratta dal libro di Mariella Lentini Santi compagni guida per tutti i giorni.